I tre anni alla Serra Azzurra sono stati per me tre anni importanti, tre anni di transizione, anzi di formazione, sono stati anni tosti, belli tosti, però in questi tre anni sono riuscito a fare lo step, a parte a livello fisico e tecnico, anche se Germano non mi faceva mai tirare da tre punti all'inizio, sono stati lo step che ho fatto e soprattutto a livello mentale. Sono entrato lì e uscito dalla Serra Azzurra avevo cambiato qualcosa proprio nella mia testa, per me la Serra Azzurra vuol dire sudore, vuol dire sacrificio, ma vuol dire anche condivisione, condivisione dei suicidi durante la settimana, ma allo stesso modo delle gioie, delle finali nazionali o comunque di una serata passata in foresteria. Una volta che entri alla Serra Azzurra ti spogli di tutti gli alibi, non hai più alibi, ti guardi allo specchio e dici ok, adesso sta a me, ti rimbocchi le maniche, ti sbucci le ginocchia perché te le sbucci parecchie volte, però ti guardi allo specchio e dici ok, adesso io voglio provarci. Veramente senza alcun alibi, senza nessuna scusa provi a diventare un giocatore, per fortuna io ci sto riuscendo.